Il cinismo è l'ardimento, la qualità è la giovinezza, la forza è forse la leggerezza. La sfida di cartello della quinta giornata del girone H di Serie D fra Bitonto e Barletta è stata una partita a scacchi, giocata sul Prato del Ventura di Biceglie, con le pedine schierate dai due maghi a studiarsi in attesa del colpo esiziale, che infatti arriverà dopo la mezza della ripresa e sarà un autogol. Mister Valeriano Loseto sceglie ancora l'underbetrarch fra i pali, i baluardi centrali sono Gomesch e Silletti, esterni Riefolo e Chiaradia, metronomo Spinelli col gladiatorino Invitto Mariani, davanti Figlioli e Maffei con Capitan Palazzo. Il collega Francesco Farina risponde con Piersanti in porta, Petta e Pollidori, cardini della Maginò arretrata, vice-domini, scafato direttore d'orchestra, il fantasista Loiodice all'ampeggiar classe alle spalle di Lattanzio e Russo. Neppure un giro di lancette, destro di Figliolia, esterno della rete. Poco prima del quarto d'ora, piazzato prevedibile di Palazzo dai 25 metri, Piersanti bloccafagine. Al ventisettesimo, botta inguardabile di Russo dal limite. Poco dopo la mezza, destro radente di Maffei e la difesa avversaria la scampa avventurosamente. Dalla bandierina spiove il cuoio al centro dell'area, sull'incornata di Chiaradia l'estremo ancora guizza e salva. A quattro prime dall'intervallo, Palo schieggiato di testa da Milella, su assist sbilolo involontario di Petta. Nel minuto di recupero, Lattanzio si invola, imprendibile, ma calcio a sbilenco. I barlettani controllano con qualche tremore le folate improvvise degli imberbi leoncelli, ma al ritorno dagli spogliatoi gli ospiti si fanno più propositivi, senza grande costrutto però. Al quarto, ignobile collo esterno di Russo. Figlioli al diciannovesimo irrompe in aria, stoppa e gira il pallone che muore sul fondo. Minuto trentadue, ecco la mossa dello scacco matto. Il prestigiatore lo iodice, inebri avversari sull'ala e lancia Russo. Cross rasoterra e nel vano tentativo di anticipare le punte avverse, sfortunato autogol di Silletti. Esplode così la muraglia dei tifosi biancorossi, festanti in curva per la quarta vittoria consecutiva. Di sasso restano i sostenitori bitontini.